Ciao a tutti cari signore e cari signori di M di Marco Daedde, e tantissimi auguri a tutti voi di Buona Pasqua e Pasquetta. La sigla del 2010 di Rai News 24, la sigla del 2007 di TG1, sono belle, ma ok. Mentre la sigla del 2011 di Rai News 24, è la sigla del 2010 di TG3, sono bellissime. Benvenuto alla versione canale televisivo di TVR Sport. Sullo stufato della nonna, uno degli episodi di Leone e il Canne Fiffone, una volpe sta preparando uno stufato come prova per un concorso di cucina, ma le manca un ingrediente. Una graziosa nonnina. La volpe trova Marilu, l'ingrediente ideale, e decide di portarla nella sua tana, ma Leone farà l'impossibile per salvare la vita della sua padrona. The Problem Solvers è una serie televisiva animata statunitense creata da Ben Jones, e la sua sigla non è un granché. Daria è una sitcom animata statunitense creata da Glenn Eichler, e Susie Lewis-Lean, e trasmessa tra il 1997 e il 2002, e la sua sigla è bellissima. Se la sigla di Popatroll avesse la sigla di Uncle Grandpa, la sigla di Miraculous con la sigla di Clarence, e la sigla di Il Piccolo Regno di Ben e Ollie con la sigla di Greens in Città? No. L'utente 0372? Un utente veramente fantastico. MTV, o TV8? MTV. Se nascesse Jolly Channel? No. Se MTV ritrasmettesse Daria? Sarebbe perfetto, ma non si sa. E con questo nuovissimo video è tutto. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, e mettete la campanella, per non perdervi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima, ciao loho.